Primo trimestre 2019 l'economia veneta dà segnali di rallentamento. Rallenta perché ciò che produce, quando esce dai cancelli delle aziende, non corre e il rischio è l'isolamento. Se la nostra regione non viene infrastrutturata in strade, in ferrovie all'avanguardia, in strutture immateriali, banda larga e quant'altro, ovviamente è una competizione ad armi di impari e si perdono posizioni. Nonostante questo gli imprenditori veneti continuano ad esportare, ma hanno ridotto di molto gli investimenti, come nel Vicentino. Brutto segno per il Presidente della Camera di Commercio Berica, vuol dire che non si sentono sicuri e piuttosto investono all'estero. E gli investimenti pubblici? Ci sono fondi rilevanti che sono bloccate, semplicemente bloccate, per problematiche burocratiche, che si legano a problematiche politiche, che si legano a un non-decisionismo e a una sostanziale inefficienza. del nostro decisore pubblico. Un grande paese industriale come il nostro non può permettersi queste inefficienze. È veramente inaccettabile. Su 1800 km ne abbiamo solo 30 km di alta velocità. Cosa possiamo pretendere? Si deve pretendere di fermare il non-decisionismo e l'inefficienza dello Stato, dicono in coro Zoccato e Pozza. Mettetene le condizioni di lavorare, di operare e saremo sempre con il numero positivo, con il pilo avanti. Fa bene al Veneto, ma fa bene all'Italia. E l'Italia, il Veneto e Vicenza pensano che l'Unione Europea sia imprescindibile per il commercio. Un dato convincente, la Germania è il primo cliente estero per l'economia berica. Il terzo è la Francia.